Barbara D'Urso qualche giorno fa è stata ospite da Michele Caporosso a 6WAAD? Su Radio DJ e si è prestata al gioco? Ci sono tanti rapper che hanno scritto rime su Barbara D'Urso. Fai parte della cultura popolare. Ti va di leggerle tutte? Fai parte della cultura popolare. Che senso busta? Che busta è? Una busta shock? Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Due canzoni di Fedez. Ma ci è andato giù di brutto lui è. Adesso io voglio parlare con Chiara Ferragni. Io non so quando Federico ha scritto queste canzoni ma io mi preoccuperei moltissimo perché Fedez pensava a me. Quelli che sputano tanto addosso. Un po' di amore dentro per il personaggio. NDR ce l'hanno. Se l'ho mai ospitato? No. Ma non sarebbe mai venuto. Credo che lui mi consideri troppo, di basso livello. NDR. Se io andrei a muschio selvaggio nel suo podcast, certo. Non l'ho mai ascoltato. Ma lo ascolterò. Ovviamente non è potuta mancare una battuta sulle luci. Qua non ci sono le mie luci e sarò sicuramente un cesso e non ha importanza. Ma sono così. Quando sono venuta qua ti ho chiesto delle luci? La risposta è stata negativa. No. Zero. Era un po' di amore dentro. Non le doi. La risposta è un po' di amore. La risposta è giù. Lo ascolto dalle.